In seguimento per le vie di Messina, arresti e denunce. Da un lato i poliziotti e gli agenti della Guardia Costiera e dall'altro tre persone. Tutto questo è avvenuto nel corso di un servizio finalizzato al controllo della filiera della pesca sulla rada San Francesco. Due persone sono state arrestate per resistenza pubblico ufficiale e poi denunciate per interruzione di pubblico servizio. Una terza era stata sorpresa a trasportare nove lame di sarde ed altre specie ittiche a bordo di un furgone ispezionato dal personale della Guardia Costiera appena sbarcato da un traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Invitato a seguire gli operatori della Capitaniera di Porto per accertamenti, è riuscito a dileguarsi grazie all'intervento dei due arrestati che si sono interposti tra il suo furgone e le pattuglie e che gli hanno consentito di allontanarsi evitando anche il sequestro del prodotto ittico. La colta dei due che erano stati fermati prima e finita ai caselli autostradali di Tremestieri e Messina sono stati trattenuti in camera di sicurezza fino al rito direttissimo con il quale è stata emessa per entrambi un'ordinanza di custodia cautelare e gli arresti domiciliari. Proseguono intanto le indagini per verificare la responsabilità della terza persona fuggita con il furgone e il prodotto ittico al seguito.